video ripresa in 4k 60 fps con poco f4 saliamo ok sembra una buona stabilizzazione perlomeno a video entriamo in negozio proviamo andare ad avvicinarci a qualche oggetto vediamo un attimino ok nonostante il riflesso sembra buona la messa a fuoco anche abbastanza rapida ci spostiamo verso la vetrina costiamo ad uscire che fa caldo vediamo un po una tendenza abbandonata sul tavolo c'è una sete stamattina la tendenza quest'ora chissà il resto della giornata alcol etilico puro ciao